All'Elida Air Institute di Parigi, per migliorare la bellezza dei capelli, ascoltiamo le vostre esigenze e sentiamo sempre la stessa domanda. Tutti i prodotti promettono bei capelli, ma quali funzionano veramente? Sentite? Quali funzionano veramente? Ecco perché abbiamo creato una nuova linea di prodotti, Dimension Professional, e ne abbiamo misurato i risultati. Lucentezza 10% in più, volume 15% in più, e i risultati misurabili sono anche visibili. Dimension Professional, la nuova bellezza, si misura sui risultati. Grazie.